Venerdì 22 maggio, sono in centro storico a Modena per riprendere il primo weekend della fase 2. Armato di mascherino, ho fatto un giro in due posti molto caratteristici del centro storico che sono la Pomposa e via Gallucci, abitualmente molto frequentati da tantissimi giovani ragazzi di Modena. Seguite questo racconto del primo weekend della fase 2, qua dal cuore di Modena, dal centro storico. Essendo il primo weekend della fase 2, comunque c'è, ci sono tante persone in giro. Io sono venuto qui a vedere la situazione, comunque sembra di essere tornati a febbraio. Sono le 23.30, sono qui alla zona della Pomposa, centro storico di Modena. Questa è la piazza caratteristica, luogo di ritrovo di tantissimi modenesi durante il weekend. Come potete vedere dalle immagini, la piazza è comunque piena di persone. Ci sono tante persone che girano senza mascherina, è vero che all'esterno è più facile mantenere la distanza di sicurezza, ma quando ci sono comunque tante persone diventa più difficile, come nelle immagini che potete vedere. In questo momento sono in corso Duomo.